Ovviamente tecnica, lei, forse una delle cose più forti che ha detto in questi quattro mesi da Ministra, dopo le continue critiche di Salvini al suo operato, a un certo punto ha detto mi dispiace essere diventata la sua ossessione, ma lei aveva messo in conto quando ha giurato da Ministro dell'Interno che Salvini l'avrebbe presa di mira, no? Guardi, non l'avevo messo in conto, pensavo ovviamente che come partito, è ovvio, avendo preso il posto di Salvini qualunque decisione, qualunque scelta sarebbe stata oggetto di critica, però io pensavo, perché è una forma di eleganza istituzionale non parlare mai del proprio, diciamo, di chi ha preso il tuo posto, il predecessore di solito è stato sempre così, però evidentemente era... io l'ho dovuto dire perché mi venne proprio spontaneo, ho visto che ogni giorno ce n'era una e quindi dico basta E andrà ancora avanti così, probabilmente, fin quando lei sarà Ministra dell'Interno Ce ne faremo una ragione Professor Cacciari